ciao ragazzi oggi parliamo del pesce pettine un pesce della famiglia dei labridi come il tordo marvizzo il tordo pavone merlo o la più comune donzella o donzella pavonina è un pesce che si nutre prevalentemente di molluschi e crostacei per questo ha un sapore eccezionale ho deciso di prenderne un po perché volevo fare una frittura di pesci pettine perché ne ho visti veramente tantissimi quest'estate tra cui anche degli esemplari piuttosto grossi considerando che come molti i labridi non raggiunge delle dimensioni importanti ho deciso quindi di prelevare soltanto il numero di esemplari che mi poteva dare una bella cenetta sembra facile prenderli non lo è perché tendono a sparire dentro la sabbia con una velocità incredibile e tra l'altro poi una volta sotto la sabbia è impossibile trovarli sono inoltre molto veloci e dotati di denti aguzzissimi quindi anche una volta catturati bisogna maneggiarli con cura ok ci vediamo sott'acqua no 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 Grazie a tutti